In Sparta penso che uscire da questo campo è un applauso dalla tribuna, noi ci rende felici, ci rende felici, ci rende felici e il merito penso che sia questa grande prova di essere difficile che hanno fatto oggi tutti, non ci sono scuso più di quelli che hanno giocato abbiamo fatto un buon lavoro in questi tre avveramenti che hanno preparato questa partita, faccio un grande rambiente, grazie a tutti per la mattina. Siamo decisamente molto molto felici, lavoriamo duramente da mesi, purtroppo questi tre punti non arrivavano siamo felicissimi di averlo raggiunto, di aver conquistato il campo difficile con il gol di Monopoli sicuramente non mi grazie di andare anche sui campi che ha lavorato con noi e che penso sia la parte integrante di questa vittoria sicuramente siamo dispiaciuti per come sia andato il suo trasforzo qui per noi all'Apregas che provo a parte del calcio, abbiamo ricominciato con tutti i regoli e siamo felicissimi di essere pari in realtà prepariamo sempre le gare iniziosamente, purtroppo mancavano poi i punti, quindi io credo che noi ogni settimana lavoriamo nello stesso modo, ogni settimana, sia prima che ora, cercavamo di far di tutto per la sportazione professionale e poi sono soddisfatti, sono soddisfatti, ma specialmente per il gruppo, perché mancavamo questa vittoria purtroppo non arrivava la partita, sono soddisfatti, sono felici, ci servivano questi tre punti anche per anche per farci un po' a... in una zona... in un'idea della Passivica per il primo punto della Monopoli è palettato da tre giorni, lui è... infortunatamente siamo felici, ci dispiace per il mister Pedro Stagli che è già seguito con questi mesi adesso c'è un nuovo mister, potremmo seguire lui, siamo contenti di iniziare questo cammino insieme a lui con questi gradi avuti grazie a tutti